Buongiorno Milano da Baggio, siamo in uno dei quartieri veramente da riscoprire, tra l'altro comune fino al 1923 e oggi vedremo la chiesa di Sant'Ampolinare e il suo famoso organo, la biblioteca e i lavori per la riapertura e parleremo del prolungamento della metropolitana fino a Baggio, passato, presente e futuro. Esiste un modo di dire che i vecchi milanesi hanno ancora sulla bocca oggi, va a Baggio a suonare l'organo, e cioè vai a Baggio a suonare l'organo. Lo si usa quando si vuole togliersi qualche scocciatore di torno e lo si vuole mandare a fare una cosa impossibile, come suonare l'organo che non c'è e vi spiego perché. Questa è la chiesa di Sant'Ampolinare, il campanile risale al X secolo, ma nel 1875 fu completamente ricostruita, solo che l'organo arrivò solo nel 1888. Anche allora c'erano i ritardi dell'amministrazione e per cui 13 anni in cui questo organo, questo organo c'era solo un'idea, era un organo fantasma. Da lì molto probabilmente nacque questo detto. Ora andiamo a vedere la biblioteca di Baggio. Siamo all'interno della biblioteca di Baggio. In un mondo apparentemente dominato dal virtuale e dal web, la biblioteca in un quartiere continua per fortuna ad essere un centro di aggregazione sociale e culturale importante. Stiamo però rifacendo questa biblioteca a Baggio, sistemando l'impianto elettrico, eliminando le barriere architettoniche che limitano la fruibilità per i portatori di handicap, mettendo i pannelli fotovoltaici sul tetto e soprattutto creando un nuovo spazio polifunzionale, dove oggi siamo. I lavori sono stati rallentati per il Covid, ma entro fine anno contiamo di riconsegnarla ai baggesi. C'è un'opera di cui a Milano si parla addirittura da decenni, e cioè il prolungamento della metropolitana dell'M1 fino a Baggio. Finalmente diventerà realtà, perché abbiamo il consenso del governo, ma soprattutto i fondi, 350 milioni per portare la metropolitana fino a Baggio. Siamo all'incrocio tra via Baggarotti e via Gozzoli, dove ci sarà una fermata, ci vorrà qualche anno, è inutile nasconderselo, ma prima della fine del mio mandato vorrei proprio indire la gara per la costruzione.